buongiorno ragazze ciao a tutti e a tutti nuovo video chiacchiericcio anche oggi si finalmente allora questi video li sto mettendo tutti in privato poi prima poi il pubblico dunque come vi va la vita spero bene io nel frattempo sto tirando un sacco di video non so quando li pubblicherò ma almeno provo a registrarli e niente allora tra poco devo registrare un altro video su i prodotti finiti beauty e mangerici quindi vediamo un po cosa riuscirò a cosa riuscirò a registrare prima e nulla ragazze mie cosa dirvi oggi volevo truccarmi ma mi sa che mi trucco solo le sopracciglia e gli occhi ma il resto è nulla vediamo intanto c'è un sacco di sonno ma vabbè nulla io nel frattempo ho deciso che proseguo con i videovlog che questo è un videovlog bar che è niente ho già fatto colazione come anche se non ve l'ho detto ho preso un tè anzi prima di tutto un caffè ma ancora non ho carbonato una mazza poi ho preso un tè adesso tra poco devo prendere appunto l'integratore tra poco verso le 11 chi ora sono adesso aspettate un secondo sono le 10 e 53 e alle 11 appunto prenderò alle 11 dalle 11 e 5 e c 0 5 minuti per l'integratore così facciamo qualche minuto in più già boh vabbè allora aspettate un secondo ragazze mie allora nulla praticamente stavo controllando da dove venivano da dove venivano dei rumori strani era lo scaldabagno quindi vabbè dettagli che nulla forse lo scaldabagno adesso ha fatto un po troppo carico di acqua calda ma vabbè dettagli alla fine adesso tra poco mi faccio una bella docciotta perché ne ho bisogno come dire mi asciugo i capelli o li lascio così vediamo forse mi lasciugo anche sì ho necessità di farmi una bella doccia perché mi voglia un po scaldare non è che è freddo però sta arrivando prima o poi un freschetto anche qui in sardegna quindi è bene che mi si è bene che mi scaldò un po ti hai detto un attimo allora aspetta un secondo ragazzi mie non lo so boh ho sentito i rumori curiosi strani boh non saprei neanche io boh forse perché stanno ah no c'è della gente che stanno scendendo con delle valigie vabbè non lo so non so cosa sta succedendo intorno a casa mia quindi miglia che non vi dico niente perché sicuramente non lo so e niente allora intanto vedo dove mettervi posizionati e poi faccio una doccia ci vediamo dopo mhm ciao 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 mi dovrò ripristinare in qualche altro modo cioè almeno le sopracciglia le voglio fatte ragazzi non si può stare così quindi 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 non sì mi devo truccare quindi ci vediamo dopo attenzione truccare non vuol dire truccare solo gli occhi posso truccare anche solo le sopracciglia cioè dare una decenza una parvenza umana a queste sopracciglia tutto lì almeno quello e un po' di mascara sono a posto ho anche solo le sopracciglia adesso ci penso su e poi vi ho aggiornato allora mi ho fatto un po' di anzi mi ho uniformato un po' le sopracciglia niente mascara perché non mi andava tanto due per tre devo mettere sempre il collirio aggiornare un po' la situation riguardo la mia situazione glaucoma agli occhi sì perché non lo sapesse che è nuova dal mio canale sorrido perché non è bello dire le cose così troppo serie vabbè è vero c'è anche un momento di tristezza quando dicono le cose ma non voglio essere triste voglio portare le cose anche quelle un po' più spiacevoli quelle un po' meno che non piacciono sul mio canale cioè voglio dire che ho glaucoma perché soffro di glaucoma una cosa che viene alla vista dipende da cosa è stata accentuata questa cosa alla vista da tanti fattori non sto qui a dilungarmi però è così quindi alla fine ho deciso di dirvi che ho glaucoma e quindi devo stare attenta ogni volta a mettere collini su collini e cose via non lo sto curando questo glaucoma però è così devo stare attenta e ogni volta che rientro a casa oltre a riuscire a struccarmi devo struccarmi non struccarmi tanto bene struccarmi bene 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 tranquillamente ovviamente cercando di sì cercando di nulla insomma struccarmi e basta delicatamente con tempo cercando di non arrivare all'orario delle gocce un po' prima come rientro a casa o se sono a casa da un bel pezzo o se sono in casa tutto il giorno se mi trucco per fare i video chissà peraltro per riuscire a fare la spesa come rientro dalla spesa o dalla passeggiata struccarmi all'immediato perché è importante ragazze come si sa mettere le gocine perché le gocine sono importanti per chi ha le gocone già e nulla ragazze questo era tutto io vi ho fatto una piccola morning routine non è che vi ho fatto una morning routine da 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 sdraiata perché non mi andava ma almeno abbiamo chiacchierato un po' insieme come se procina ho utilizzato questo qui questo questo del rimel che sarebbe questa matita qui vedete che ha questa non è una mina ma è proprio una matita matita si controvede anche si e nulla come gel aspettate un secondo allora come gel fissante ho utilizzato questo della l'oreal non si vede l'ho messo anche il contrario l'oreal per un artist set si questo qua gel fissante che si è pure cancellato la numerazione ma non fa nulla intanto qua mi gronda dell'acqua da dietro cioè dai miei capelli della massa dei miei capelli ma non fa niente quindi troppo preoccupato per lasciarli perché non posso stare con una cosa che mi gronda oppure li tampono bene bene non l'ho tamponati benissimo ma volevo finire questo video potevo anche farlo prima ma vabbè nulla e niente quindi noi ci vecchiamo il prossimo video scusate se dico ci vecchiamo ma mi viene come se fossi una di quei youtuber che giocano a videogiochi invece non lo sono ma vabbè fa niente lo stesso anzi meglio preferisco dire ci vedremo il prossimo video cos'altro volevo dirvi stamattina la giornata era uno schifo poi alla fine come detto come si sa d'altronde sempre è una bellissima stra bellissima giornata è vero è un po' ventilata ma non importa però si sta bene detto questo se siete roma resteranno nel video era il mio gamba che si schifionava vabbè forse sarà l'assestamento delle ossa mie non lo so ma non saprei vabbè comunque a parte queste cose che vi ho detto spero che questo video vi sia piaciuto perché siamo già arrivati a più di 15 minuti lo voglio far entrare nei 16 minuti circa e noi ci si vediamo al prossimo video appunto ciao like commento iscrizione e attivate la campanellina ciao ciao